no sicuramente continuerò però ci sono cose cioè sono riconosco quello che fare non in quel senso però diciamo che sicuramente è stata una bella l'esperienza e ringrazio tutti e le persone che hanno contribuito e mi hanno dato l'opportunità è stata dura perché sono stata proprio il Covid, sono stata proprio l'opinione prima e forse anni poi ho sottovalutato molto il Covid, non sono stata assolutamente bene le prime forse il primo mese che ho partilizzato come opinionista, ho cercato di non farlo vedere ma non lo so bene, è stata durata